Eccoci alle terme Lasciamo le vesti nella poditerium, il nostro spogliatoio, e prepariamoci a vivere un momento di relax, circondati da frischi e mosaici di rara bellezza. Iniziamo il nostro percorso entrando nel frigidarium. In questa sala circolare, sovrastati da un soffitto a cupola, possiamo godirci una nuotata tonificante nella piscina di acqua non riscaldata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto possiamo concederci un rilassante massaggio nella sala più ampia e lussuosa dell'edificio. Raggiungiamo quindi il tepidarium. Qui l'acqua è tiepida e dopo aver rilassato la muscolatura possiamo ungerci con oli profumati e abbandonarci a un piacevole massaggio. I bellissimi mosaici a motivi geometrici e floreali che catturano la nostra attenzione sono stati realizzati in momenti diversi della storia di questo edificio a partire dal primo secolo dopo Cristo. dirigiamoci ora nella conico, la stanza dei vapori. Il pavimento riscaldato dai condotti che partono dal pre-furnium rende la temperatura altissima, perfetta per un bagno di sudore. adesso siamo pronti per concludere il nostro percorso benessere immergendoci nell'acqua calda del calidario. Ah, le terme sono davvero il luogo perfetto per rigenerare corpo e mente. Grazie a tutti.